Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vedremo come collegare e vedere le foto e i video da una videocamera a un computer Per prima cosa qui c'è lo spazio per l'SD Io l'avevo già tirata fuori però dovremmo tirarla fuori e andarle ad inserire nel computer Aspettiamo che venga fuori e viene fuori Video System, MISC e DCMI DCMI sono le foto, video sono i filmati Ok L'altro modo Anzi, se qualcuno non ha un lettore DSD dentro al computer può usare questo qui che è un lettore di schede Il secondo modo è di inserire la scheda dentro la videocamera Poi successivamente di collegare il cavo nella videocamera Ok, la accendiamo Ok, ci spostiamo sul computer e si aprirà la stessa pagina Sono sempre gli stessi file e quindi è la stessa cosa Va bene Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao